Conoscere da vicino l'orso che popola il nostro bel paese può aiutare a superare la paura per questo animale. L'orso è per sua natura diffidente nei confronti dell'uomo, può capitare però che possa avvicinarsi ai centri abitati alla ricerca di cibo. Avvissare un orso è un'esperienza assolutamente eccezionale, emozionante e tutt'altro che comune. Se dovessimo incontrare un orso dal vivo che tipo di comportamento dovremmo tenere? Cercare di non inseguirlo, avere un comportamento quindi sempre rispettoso dell'animale, non fare rumore soprattutto se si dovesse trattare di una femmina con dei piccoli. Durante un incontro fortuito con l'uomo l'orso potrebbe alzarsi sulle zampe posteriori. Questo è un atteggiamento che a volte può spaventare chi non conosce l'etologia del comportamento dell'animale. In realtà non è un atteggiamento aggressivo. Quando c'è di fronte qualcuno, un essere umano, qualcosa di nuovo, ha per istinto la necessità di alzarsi per vedere meglio. Che attività svolgono i carabinieri forestali per la tutela dell'orso? Qui nel Parco d'Abruzzo è la nostra principale attività. Cerchiamo di monitorare il comportamento degli animali, di evitare che nell'interazione con l'uomo solgiano problemi. In Italia l'orso bruno sopravvive sull'arco alpino e sull'appennino centrale con una sua particolare sottospecie, l'orso bruno marzicano. Questa sottospecie è rimasta isolata per tantissimi anni nell'appennino centrale quindi si è differenziata a livello genetico. È meno aggressivo dell'orso bruno europeo ed è anche un po' più erbivoro. Nutrirsi è la sua occupazione principale a cui riserva per lo più le ore notturne. Gli animali fondamentalmente cercano risorse alimentari e tutte le volte che trovano risorse alimentari ne approfittano. Alcuni orsi vengono definiti confidenti. Gli orsi sono diventati confidenti nel momento in cui l'uomo ha smesso di fare il bracconiere e ha considerato che la presenza dell'orso anche all'interno dei paesi era opportuna. È possibile la convivenza tra l'uomo e questo animale selvatico? È assolutamente possibile convivere con gli animali selvatici. Ovviamente non c'è una formula. È cambiato il territorio, è cambiato il nostro rapporto con il territorio. Prima l'uomo era molto più presente in montagna, ora la pressione sulla montagna è molto ridotta e il bosco ha riconquistato tanti spazi. Di questo ne hanno beneficiato anche gli animali selvatici che negli ultimi anni hanno riconquistato gli spazi di un tempo. Grazie. 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 Grazie.